Il Signore è in mezzo a noi sì o no? Questa è la domanda che viene fatta ed è una domanda interessante perché sembra un po' ridicola se vogliamo, però è una domanda fondamentale. Il Signore è presente nella nostra vita o non lo è? Se ascoltiamo Gesù al momento dell'ascensione dice che non ci lascerà solo, che ci manderà lo Spirito Santo e più volte dice ai discepoli che potranno fare cose anche più grandi di quello che Lui ha fatto. Cosa significa tutto questo? Che il Signore c'è, ma forse non nel modo in cui noi pensiamo. Forse noi ci aspettiamo un Gesù che ti appare così. Vi racconto una storia. Quando ero piccolo mia nonna aveva un libretto di preghiera dove c'erano le foto dei veggenti di Fatima e allora io quando aprivo una porta a casa sua avevo sempre paura di ritrovarmi davanti alla Madonna che poteva apparire così. Paura è nel suo stesso tempo la voglia di poterla vedere. Alcune volte forse pensiamo la stessa cosa. Pensiamo che Gesù ci possa apparire così e ci dimentichiamo che Gesù è presente nella nostra vita, ma in modi molto diversi. È presente nella vita della persona che accanto a sé ha un altro che si occupa di sé. Che cosa voglio dire? Che Gesù agisce attraverso persone che ti vogliono bene, che ti amano. L'amore che viene riversato nel nostro cuore attraverso la presenza di altri è straordinario. Pensate a quanti santi hanno fatto cose meravigliose perché Cristo abitavano in loro e noi siamo chiamati ad accogliere Cristo nella nostra vita. Come? Intanto invocando lo Spirito Santo che è quel dono che Gesù ha voluto per noi, ma anche attraverso i sacramenti. Che cosa sono i sacramenti se non rendere visibile qualcosa di invisibile? E l'eucharistia? Che il corpo di Cristo in mezzo a noi? Vedete allora che il Signore è presente? Basta aprire gli occhi, ma non solo questi, anche quelli della mente e del cuore.